Sì, sembra proprio spaventata. Only Krebs, bici quanti ragazzi, sono Bezzbossa e sono tornato con il dodicesimo episodio del mio gameplay di Sacred Underworld. In realtà si dice Sacred, ma comunque fa lo stesso. Allora ragazzi, c'è stato qualche leggero cambiamento. Potete vedere ragazzi che innanzitutto sono salito di livello, fresco fresco se devo essere sincero, infatti dovrei essere a... Esatto, appena salito. Perché ragazzi? Perché mi sono divertito a fare razzia di tutti i nemici che ho trovato. Ed io che soffro di disposofobia, come ho scritto nella descrizione dello scorso episodio, ovvero praticamente quella fobia di tenere tutte le cose accaparrate senza utilizzarle. Che esiste veramente come malattia, non è una parola inventata, l'ho cercata proprio su Wikipedia. Ed io che soffro di questa malattia virtuale, veramente vorrei tenermi tutto, ma ho saputo resistere. Innanzitutto procediamo con l'aumento di statistiche. E io farei terra e acqua, poi meditazione, sì dai, e poi magia. E abilità resistenza. Anche la destrezza forse potrei aumentare tra un po'. Il carisma è bassissimo. Vediamo, allora porto la resistenza a 100 e poi vedo come gestirmela con carisma e destrezza. Però la destrezza è già un po' alta. C'è qualcosa che me l'aumenta, non so cosa. Comunque ragazzi, potete vedere che non è che ho resistito tanto. Infatti, ho l'inventario abbastanza pienotto. Cos'è che ho di particolare? Ho 6 arti di combattimento di altri personaggi. Ho 3 amuletti. Questo lo vendo e questi 2 me li devo tenere perché ancora non so cosa farne. Sono veramente buoni, se devo essere sincero. Poi, ah, un altro amuletto. Un terzo amuletto che dovrei tenere. Poi, 2 anelli che mi sembrano molto buoni. Questo anello è quello che utilizzerò per metterlo nel quadratino grigio di questo bastone. Poi abbiamo 2 cose... Allora, ho un pugnale che venderò. Anche se ha rigenerazione degli incantissimi più 15%. Ma comunque... E quest'ascia, ragazzi, devo ancora provarla se devo essere sincero. Non è così forte in realtà. Sto guardando... Wey, non bloccarti. Per un attimo. Sto guardando l'arma. E questa mi dà velocità d'attacco più 17. Rigenerazione degli incantissimi più 60%. E scusate se leggo veloce, ragazzi. E ogni colpo toglie energia vitale più 11. Invece potrei mettere l'anello su questa cosa. Visto che è al quadratino. Inve... Mumble. Allora. Sto pensando. Allora. Questa la tengo. Questa la tengo. Questa la tengo. L'anello ce l'ho. Questa la potrei tenere e vendere. E mi sbarazzo di una... Pozione della morte dei non morti. Poi le ricompro. Ok. Va benissimo. Dicevo. Qui c'è un sacco di strumenti, ragazzi. Tra parentesi ce ne sono anche indietro. Eh. Ne ho lasciati indietro. Non così tanti in realtà. Ma comunque. E tra l'altro. Facendo il percorso inverso. Erano desponati tutti gli strumenti, praticamente. Tranne quelli molto più vicini alla città del Purgatorio. Per il resto erano desponati tutti. Però vedo che ho rimediato, praticamente. Allora. Quest'ascia era quella che va a Gargaduk, se non mi sbaglio. Perché gli ho dato una mazza. Esatto. Allora. Qui abbiamo un interessante. Uno scudo urlante che vale 6.000. Però per uno spazio 2x2 non lo tengo. Armatura dell'ira che vale 10.000. Ma uno spazio 2x3 e non mi piace. Pozione della morte dei non morti. Piuttosto faccio così, ragazzi. Sì. Poi. Qui abbiamo altri strumenti inutili. Anche lì, se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere qualcuno. Sono già spawnati nemici. Ammazzo solo sto ragno che vuole andare avanti. Pozione. Ah, ecco qua. Il colpo. Sì. Sì. Avevo questo equipaggiato. E quel raggio rosso era ogni colpo toglie energia vitale. Ok. Allora andiamo avanti, ragazzi. Che vi ho già fatto quasi 5 minuti di premessa. Sì. Non è spawnato nessuno. Esatto. Ed è spawnato tutto, ragazzi. Era pieno di strumenti qua. Ce n'erano almeno una decina ed è spawnato tutto. Per carità non erano strumenti buoni. Volevo solo mostrarvi che ce n'erano. Se non mi sbaglio non ce n'era neanche uno azzurro. Meglio così, ragazzi. Il gioco vuole proprio farmi andare avanti. Quindi... Ah, merda. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Ok. E un'altra cosa che vorrei mostrarvi. Mi sono messo di nuovo l'anello di ghiaccio. Che forse mi sa che sceglierò con queste. Perché sono veramente ottimi gli anelli di ghiaccio, ragazzi. Allora. Cerchiamo di sbrigarci. Chiedo scusa. E tra l'altro chiedo scusa per la battuta iniziale. Molto somigliante a una battuta di Otobi. Però volevo farla. Allora. Non è poi così tanto vicino. A quanto pare mi aspetta il villaggio Hadouk. Oddio. Ho abbassato il volume ma troppo l'ho abbassato. Non sentivo più niente. Merda. Gargaduk riprenditi dal veleno. Ok. Allora. Manziamo molto piano, ragazzi. Ok. Ti ho fregato Hadouk. Anzi Gargaduk, scusate. Ma se io clicco dove del... Mi hanno visto. Fermi. Gargaduk è pronto. Esatto. Esatto. Scusate. Se io premo Alt e il nome Gargaduk fa sì che... Come se lo premessi normalmente. Allora. Che cazzo mi sta succedendo dalla voce? Ho appena registrato un video, minchia. Sì. Scusate. Perché sto raccogliendo merdaccia? Il punto è che dopo devo registrare un terzo video e berrò un po' d'acqua. Assolutamente sì. Guanti termine fiammeggianti. Sì. Un'altra cosa che volevo mostrarvi. Qui ho tre paia di guanti. Tutti per il mago guerriero. E non so cosa buttare via. Cioè veramente sono uno giallo, due blu ma... Mio Dio sono fantastici. Questa la vendo, questa la vendo. Ok. Cosa succede? Vai. Ragazzi vi giuro che sto sudando. Bastone del mago mi tenta. Lo guardo per un millisecondo. Sto sudando perché ho la porta chiusa. Minchia! Non male! Non male! Buonissimo! Mi scendono un po' le arti. Perché questo ha fuoco incantesimo più 49%. Questo più 48%. Ma minchia è ottimo! Sì ragazzi. Bene. Sì vi stavo dicendo. Sto sudando perché ho il ventilatore spento. La mia porta è chi... Dimmi che qualcuno deve recuperare vita. Nessuno deve recuperare vita. Cosa butto? Allora. Butto per terra una pozione. E appena trovo un nemico che mi fa un po' di danno la uso. Però sono lucido prima vero? Esatto. Dai dai mosche. Perfetto. Dai 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 dai. Bene bene. No quel Mokvan non vuole morire. Ok. Ho già quasi riempito un decimo di livello. Credo. Vediamo. Sì. Non ancora riempito del tutto. Che cazzo è sta grotta? Impresa completata. Cerca uccidi. Scrak. No. Cioè ma... Ma io come ci andavo per di là? Forse ci potevo andare per di qua. Cioè. Mi sta venendo un dubbio assurdo. Devo andare per di qua? Si può andare per di qua? Piano, piano. Qui vive Scrak. Il subcari. Solo quando Scrak muore puoi attraversare porta. Allora. La cosa buona che sto vedendo è che finalmente Gargaduck non è più in mezzo alle palle. Allora lì c'è il... Un attimo. Mi sta venendo il dubbio. Che luogo è quello? Poi c'è... Tagliato a metà? Quella è l'entrata di una grotta. Sono entrato nelle miniere. Quindi si può entrare. Ora devo scendere in profondità lungo le gallerie per dare al demoniaco Scrak una lezione mortale. Ehm... E tra l'altro qui c'era la cosa che ho dato a Gargaduck. Si può andare? Si può andare! Un po' di combattimento a piedi ragazzi. Figo! E sono ritornati gli alien. Che non muoiono con una sfera di fuoco. Merda. Tanta merda. Per me. Vediamo se non muoiono veramente. Ma lo colpisco almeno. Si non muore. Cioè ha più difesa perché per quanto riguarda la vita... No. Tolgo 2600 con la sfera di fuoco. 2044. Tra l'altro il danno è giusto qua. 2064. Mmm. Allora. Ehm... Devo andare da basso. Ok. Ehm... Finalmente ho una nuova location. Ti prego non spostarti. Mi faccio vedere piuttosto. Dai. Non mi ha visto. Cazzi suoi. Allora mi curo un attimo. Ok. Lo so che posso... Ehm... Come si dì. Che come si dice. Ehm... Switchare tra le magie utilizzando i tasti. Lo sto facendo adesso infatti. Però... Ho sbagliato. Pensavo di avere la sfera di fuoco. E pensavo di averla già messa. Porca puttana. Dai, curati. Allora. Donna Mokva. Donna Alawakbar. Mi sembra quasi di dire. Allora. Più veloce si sposta la freccia. Più ci stiamo avvicinando. Solo che non vedendo ancora il libro. Ecco. Per esempio questa spada. Potrei valere di più. Della mazza. Cosa che non... Che non è vera mai. Nella vita. Oh merda. Devo andare per di qua. Speriamo. Cioè ragazzi. Vi ricordo che è la prima volta che vado qua. Ora l'ho fatto. Ho premuto zero. Vai, 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 vai. Odio i loot. Lì c'è un teschio assurdo. Dei teschi assurdi. Dei scheletri assurdi più che altro. Elmo scintillante mi ispira. Ero sicuro che fosse per me. Ma fa schifo. Non fa neanche tanto schifo. Però questo pugnale è blu ma vale poco in più di un pugnale in bianco. Molto strana come cosa. Pozione minore medicamentosa. Tra l'altro un'altra cosa che volevo mostrarvi ragazzi. Ho sconfitto 254 mosche e 222... Volete fare qualcosa? All'unisono ancora oltre che urlare? Dicevo ho sconfitto 254 mosche e 229 acrididi. 132 ragni guerrieri e 130... Dovrebbe essere le larve piccole. Spada marziale del fallimento. Però mi sembra strana. Che figa! E fa per me! È una spada a due mani? Non è una spada a due mani ma è fighissima! È bellissima ragazzi. Purtroppo devo lasciarla ma è bellissima. Scendiamo. Allora. E tra l'altro... Merda. Ah un'altra cosa. Ma le metterre come fanno a scendere se sono dentro una grotta? Merda! No. Mi faccio colpire e poi raccolgo quella pozione. Dai colpiscimi. Ma quanto danno mi ha fatto! E non sono visto trovare una briglia per il mio cavallo purtroppo. Il mercante del purgatorio non le vendeva. Mortacci sua. Allora. Cosa è... Anche migliore questo! Aspetta. Due 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 tre? Due due tre... Quattro? No. Non è quello che scala. No. Un attimo. Questo mi dice che è migliore. Ma non sembra. Perché? Questo scala quattro per cento alla... Eh... Dei danni magici al carisma. Che è bassissimo. Questi danni alti li prende dalla magia. Merda. Questo ha velocità più cinque e otto in difesa. Questo ha solo otto in difesa. Ma può essere potenziato. Questo vale di più. Difficile come scelta. Merda. Molto difficile come scelta. Prendo questo solo perché lo potenzio con l'anello. Perché fa un danno fisico che a me... Oddio. La rigenerazione fisica... No, scusate. Era giusto. Maggiore la rigenerazione mentale. Maggiore il danno degli incantesimi. Non il danno che faccio fisico con l'arma. Quindi prendo questa. No, dai. Prendo questa perché mi dà la velocità. Dai. Devo essere veloce quando la utilizzerò. E quando avrò armi e manico lungo. Minchia, ragazzi. Sto grondando di sudore. Che cazzo sta succedendo? Allora, ho trovato un'altra guarigione spirituale. E adesso mi sale a 1611 quando senza cavallo 1146. Cioè, ma porca puttana. Io non ci sto credendo. Anello di Giada, spada dell'aquila. Che vale di meno. Quale cazzo fa una roba blu a valere di meno di una minchiata bianca? Forte però, per l'amor di Dio. Cioè, un attimo. Vale come il pugnale, praticamente. Anello di Giada? Mio Dio, fa schifo. E cani che abbaiano. Cani che abbaiano morde. Cani che abbaiano. Stavo dicendo una minchiata. E questi fan per me. Ma fanno schifo? Oh mio Dio, fanno schifo. Allora, spada dell'aquila fa schifo. Anello di Giada pure. Sì, mi è andata tutte quante puttanate. Però adesso che ci penso. Potrei utilizzare i due anelli. Dicevo, i due anelli per potenziare. No, giusto. Uno e uno per fare una prova. Per vedere qual è l'anello migliore. L'anello migliore. E buttiamo via. Minchia, sto morendo. Sto affogando nel mio stesso sudore, ragazzi. Una pozione della morte dei non morti, dai. Poi le compro. Allora. Sono bloccato. Sono bloccato. Capitemi, ragazzi. La nuova volta che faccio... No, beh, non è che sono bloccato. Per l'amor di Dio. Basta andare per di qua, sicuramente. E tra l'altro... Esatto. Se io vado a vedere la mappa, mi mostrano un punto totalmente casuale di Ancaria. Il monastero del Serafino. E noi siamo... Qua. Che ho ancora, ho sto dubbio. Questo libro verde, il villaggio Hadouk, si raggiungerà facendo così? Spero di no. Perché lo farei anche... Cioè, se fosse off camera, ragazzi. Se fosse una serie tutta... Una serie, nel senso. Tentacoli. Tentacle rape. Diavola. Minchia. Ehm... Dai. Medicamentosa. Ne ho veramente pochi di medicamentose, ragazzi. No, usiamo una del Mentore. Sì, ho usato un attimo i tasti del computer. Ok. Allora, cerchiamo di utilizzare al meglio questa pozione, ma... Ne dubito fortemente. Merda. Merda, sono in balia della Guardia Infernale. Oh, le ho colpite entrambe. Dai. No, l'ho lisciata di quanto. Adesso non t'ho lisciata. Stronza. Allora. L'importante è che adesso si giri a destra. Non si gira a destra. Forse devo fare una strada lunghissima per arrivare. Comunque, dicevo... Anzi, non è che lo stavo dicendo sta cosa, ma comunque la dico adesso. Quando finire la pozione del Mentore, io sto però all'episodio. Ottimo. Sì, ci sto morendo. Appena in tempo. No, avevano droppato una pozione minore medicamentosa. Minchia ragazzi, sto annegando nel mio sudore. Sì, stavo dicendo, ho la finestra chiusa perché sapete benissimo, vi ho detto molte volte, che vicino a casa mia ho un cantiere e fanno un casino della madonna. Ho il ventilatore spento perché si sentirebbe il rumore nel microfono. La porta chiusa perché escono rumori, entrano rumori più che altro da essa, da fuori, dall'esterno perché sono le finestre aperte. E anche perché, metti in caso che entrano i miei, da non so dove sono, fanno un casino abbastanza alto. Come cazzo ha fatto a resistere? Merda. Vaffanculo. Ah, signore. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Siamo andati avanti ragazzi, siamo andati avanti. Allora, scrivetemi delle risposte alle seguenti domande. Prima domanda. Intanto se magari il puntatore si muovesse un pochettino. Vai su, vai su. Ok, allora. Prima domanda. Qui c'è veramente, tra l'altro sto vedendo ragazzi che ci sono delle location fighissime, tipo questa, questa e questa. Spero di andarci, ho anche questa, vi giuro, spero di andarci. Comunque, domanda da un milione di dollari, che non è vero mai. Qui c'è veramente un villaggio Hadouk che si raggiunge di qua, perché mi sta tentando tantissimo. Vi ripeto, se non fosse una serie ci sarei andato sicuramente. Secondo, per caso vi sembra che ho buttato per terra qualche strumento buono, perché vi giuro che sto cercando di farla più veloce possibile, sta serie. Nel senso, so che vi dà fastidio che prendo tanti strumenti, che li guardo, che li analizzo. Però è come se lo giocassi da solo, e io farei così. Anzi, starei molto più tempo, perché prenderei anche gli strumenti bianchi. Adesso li sto lasciando per terra. Quindi, non ho nulla da dire ragazzi, mi è venuto mal di testa, perché fa caldo ragazzi, fa caldo. È arrivata l'estate, quindi non posso lamentarmi. Per questo vi è tutto. Non so a che punto del gioco siamo arrivati, ma siamo già alla dodicesima parte. Ehi là. Siamo già alla dodicesima parte, e beh, diciamo che finora la serie l'ho riempita abbastanza, ma più che altro di missioni secondarie che mi avete detto che vi fa piacere che faccia. Quindi, vi ripeto, per questo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Oddio. Oddio.